Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Tessila News. Oggi scopriremo insieme un nuovissimo accessorio che è molto versatile e utile e pratico ma che soprattutto siamo certi diventerà un accessorio per voi indispensabile. Si tratta della sacca interna realizzata interamente in ecopelle così che sia resistente e facilissima da utilizzare. Scopriamo tutti i dettagli insieme. Ed ecco qui la nostra sacca. Quindi si tratta di una sacca in ecopelle della misura di 30 centimetri per 30, completamente made in Italy ed è proprio simbolo dell'artigianalità italiana. Lunghe bordi vediamo le cuciture rinforzate ed in alto presenta la comodissima culisse che permette una facile e agevole apertura e chiusura che quindi avverrà in questo modo. Per permettervi di abbinarla a tutte le vostre creazioni sono state studiate tantissime colorazioni. Andiamo a vederle insieme. Lo possesso è stato moltoabile eiesimo. Com l'attenzione di un'artigianalità di un'artigianalità italiana. Con tutti questi colori c'è davvero l'immarazzione. della scelta. Potrete divertirvi ad abbinarla davvero a tutte le vostre creazioni. Anche noi di Tessiland ci siamo divertiti a fare una creazione con la sacca. Rosaria si è cimentata in una lavorazione a rete scegliendo due colori a contrasto, quindi al marrone del cordino Chobin ha abbinato una sacca di un giallo vivo. Potrete quindi divertirvi scegliendo un colore che sia tono su tono o mettendo in evidenza il colore della sacca come in questo caso con un colore a contrasto. Pensatela magari per le vostre vacanze con una lavorazione a rete oppure per delle borse a secchiello, per delle shopper dove magari la sacca non è evidente ma sarà davvero molto pratica. Potrete utilizzarla non solo come interno della borsa ma sarà anche praticissima per riporre all'interno magari gli oggetti più delicati o gli indumenti più delicati. Pensate ad esempio all'interno di una valigia o anche per tenere in ordine i vostri zainetti. Un accessorio molto utile ma allo stesso tempo davvero versatile che si presta a più utilizzi e che vi permetterà allo stesso tempo di divertirvi con le colorazioni. Non vi resta quindi che scegliere la vostra colorazione preferita e iniziare a creare. Non dimenticate di condividere con noi le vostre creazioni iscrivendovi al nostro gruppo ufficiale Tessiland o taggando la nostra pagina meglio di maglia. Ma seguiteci anche su tutti i nostri social quindi Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog dove troverete tutti i dettagli per realizzare la borsa come quella di Rosaria e tantissimi altri spunti creativi. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!